Si è svolta nella notte la prima corsa di prova sulla linea 1 del nuovo treno della metropolitana di Napoli. Il viaggio inaugurale si è svolto alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha stanziato i circa 180 milioni per l'acquisto dei 20 treni nuovi, che sostituiranno man mano i vecchi vagoni in circolazione dall'inizio degli anni 90. A bordo anche l'amministratore unico di ANM, Nicola Pascale, e l'assessore alle politiche urbane, Carmine Piscopo. È stata una grande emozione perché conosco gli ostacoli di ogni tipo che abbiamo dovuto superare per raggiungere questo risultato, ha scritto stamane sui social il primo cittadino. È iniziato ieri un viaggio straordinario e nuovo, ha commentato Pascale, che ci porterà ad una svolta epocale. Il Comune ha avuto il coraggio e l'iniziativa di investire su 20 nuovi treni che renderanno molto più efficiente il servizio della linea 1, attualmente servito da treni che hanno quasi 30 anni. Ogni notte, al termine del servizio della linea 1, ha fatto sapere l'amministratore di ANM, scatteranno le prove e la percorrenza dei chilometri necessari per il rodaggio, che è partito con notevole ritardo perché bloccato dalla pandemia Covid-19. Bruceremo le tappe. Tutto il personale che voglio sentitamente ringraziare per la dedizione è impegnato a dare il massimo per accogliere al più presto sui nuovi treni i napoletani e i turisti. I nuovi treni sono climatizzati e garantiscono una capacità di trasporto di circa 1.250 posti e una mobilità interna veloce e coerente, grazie a 24 porte per lato, con le prestazioni di un trasporto rapido di massa. I sedili sospesi favoriscono inoltre la pulizia quotidiana. I treni, prodotti dalla spagnola CAF, sono accessibili ai portatori di handicap con carrozzelle e offrono due postazioni accanto ad ogni cabina, marceranno alla velocità massima di 80 chilometri orari ed hanno accelerazioni e decelerazione in frenatura molto elevate, adatte ad un servizio metropolitano. Con le entrate in servizio di 20 treni si potrà realizzare una frequenza a 4 minuti, ossia 15 treni per ora e per direzione di marcia nelle ore di punta. I primi due treni sono già a Napoli e gli altri sono in produzione. Il terzo treno verrà consegnato a settembre. Al termine del drodaggio obbligatorio per legge, con la verifica del Ministero dei Trasporti, il primo nuovo treno sarà in circolazione all'inizio del prossimo anno.